È naturale che per competere con Milano serviva una partita solida, ma soprattutto una partita tecnicamente e fisicamente continua nell'arco dei 40 minuti. Credo che la cosa migliore sia stata quella di crescere all'interno della partita. Il dato più importante sono gli imbazzi offensivi concessi nei primi due quarti e i soli due rimbazzi invece concessi nel terzo e quarto quarto. Quindi aver avuto la lucidità di leggere quelle che erano le situazioni in campo trovando risorse da giocatori diversi all'interno della stessa partita. Abbiamo giocato una partita sfruttando tutti i giocatori che potevano dare un contributo e prendendo anche energia da tante situazioni di ritmo, soprattutto in attacco, che abbiamo cercato di sfruttare. È naturale che per provare a battere una squadra così importante che naturalmente veniva da un doppio impegno pesantissimo, però per noi era, ripeto, al di là della vittoria, era importante fare una partita mentalmente, tecnicamente consistente e solida, soprattutto per i giocatori, soprattutto per il percorso di crescita di questo gruppo, che naturalmente non ha ancora la faccia definitiva, ma che deve alimentarsi al proprio interno e basta della propria energia.